un uomo che una sera allontanandosi lungo la stradale con in mano una pinta di birra e una sigaretta accesa viene fermato dai carabinieri per un controllo in realtà la birra gli serviva perché la macchina con l'aria condizionata disidrata purtroppo però la birra sempre una birretta in macchina sempre una birretta pronta purtroppo la birra a vaso di lata quindi si rischia anche un ictus allora doveva fumare una sigaretta per caso a costringere è sempre tornata roba e adesso sembrava via quei che tu li e sarei qui parati è difficile purtroppo però la birra fa vedere il sonno dalla radio a palla altissimo insomma l'ha fermata in queste condizioni in realtà lui ascoltava un pezzo del Bengals che ricorda quanto sia importante la civiltà egizia egiziana perché ha inventato perché ha inventato questa pare che l'hanno inventata iniziale a birra è stata ritrovata in una ciotola è stato ritrovato il residuo di questa ciotola bene qui qua Alberto Agere questa ciotola ma non vedete su un'altra parte si dovrebbe vedere la mia stagione ancora a me stagione pensate andiamo a vedere allora andiamo a vedere la ciotola e le sacciotole ancora contiene questi resti di birra. E pare che gli ediziani abbiano inventato, sono i bell'inventori di questa domanda che è un Nettare degli Dei. Chi era il dio della birra? Per i romani era Bakkov. Ma era del vino, però era Bakkov. E Dioniso per i greci. Ah, proprio del vino? Vin, 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 della birra. Ma era un dio della birra. Come no? Eh no? C'era sta cosa o no? Per chi fa la festa. La ra. Birra. Non era un nome in Madrid. E ci siamo in San Patricio. E se lo dica di un secondo mi era. I trappisti era. I trappisti! I monaci! Ma perché trappisti? Non so, mi praticamente. Cosa sia trappi? Trappi, del genere no, volesse. Nooo, nooo... Mi è molto assustante. Si, vai. Ma come pure. No, un moro. andava a pasta tale penna al 50 all'ora eppur lo ga ferma il ga di sua cruzera col tenente ha dito lei cos'ha da dichiarare io che ga dito cosa va per tirarsi a tiro che ga ha fatto il paio neitolo ga portai ga era e dopo sette dì e se ga trova in pretura con il giudice ga dito lei cos'ha da dichiarare io che ga dito scriva come scriva che piace la pira ma che buona che si a pira mattina ancora di sera che buona che si a pira fresca e sincera che buona che si a pira pionda rossa e anche a scura mi costa cosa dire mi costa dire che piace la pira l'avvocato l'avvocato una colpe la paura e se ga inventa la storia di tutta la congiura ma io che gli amori onesto e la maniera io dito non se vera non se vera mi perché dice l'avvocato fondamentalmente mi mi per piacere mi mi per piacere per piacere così se sta rimorso finì magistratore con una condanna brutta e io ormai sicuro con il presidente ha detto lei cos'ha da dichiarare io che ga dito ancora sta sta ma dovremmo avanti a ti fondamentalmente a a e si è proccato e si è proccato a a a prendi a Edo questo a io lo so prova a ti si è proccato mi per piacere si è a a che buona che sia pira mattina e calesera che buona che sia pira fresca e sincera che buona che sia pira pionda rossa e anche a scura di cosa cosa dire cosa cosa dire per piacere se non pira a prezzo dove sta capito l'aprettore che ieri era un magistrato e anche ne pensi ora e a dirla tutta vera se ha proprio fatto l'ora assolto tutti fuori assolto assolto con tutto quello che ho fatto cosa te hai fatto di fuori insomma te bevi una pira se è un reato no te fumavi una cica se è un reato no te scontavi la radio se è un reato no te andavi a 50 l'ora se è un reato no e ora e allora non bisogna mandarle sempre nel suo complesso ma darle una parola si è assolto tutti fuori si fuori freddora fuori ma fa che ma fa che farse la pira ah che è buona che si avvira mattina e cala e sera che è buona che si avvira fresca e sincera che è buona che si avvira pionda rossa e anche scura mi non sa cosa dire mi non sa cosa dire mi piace avvira mi piace avvira grazie grazie